Peperoncino. Proprietà, benefici e controindicazioni. Benvenuti! Oggi parleremo del peperoncino, un ingrediente essenziale in molte cucine del mondo, noto per il suo sapore piccante e le sue molte proprietà benefiche. Prima di cominciare, iscriviti al nostro canale per altre informazioni utili sulla salute e il benessere. Ricorda di cliccare mi piace e condividere questo video con chiunque possa trarne vantaggio. Il peperoncino è ricco di vitamina C, un potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario. Aiuta a combattere i radicali liberi, prevenendo così l'invecchiamento precoce e molte malattie. Conosciuto anche per le sue proprietà antibatteriche, il peperoncino può proteggere l'organismo da infezioni e malattie. È un grande alleato per la salute del cuore, poiché aiuta a ridurre il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Oltre ad essere un potente antiossidante, il peperoncino è anche un ottimo termogenico. Questo significa che può aiutare a stimolare il metabolismo e favorire la perdita di peso. È un alleato prezioso per chi cerca di perdere peso o mantenere un peso equilibrato. Il peperoncino ha anche proprietà analgesiche e antinfiammatorie. Può aiutare a ridurre il dolore e l'infiammazione, rendendolo un rimedio naturale per molte condizioni dolorose, come l'artrite o i mal di testa. Nonostante i suoi numerosi benefici, il consumo di peperoncino deve essere fatto con moderazione. In quantità eccessive, può causare bruciore di stomaco, ulcere gastriche e altri problemi digestivi. È anche controindicato per le persone con emorroidi, perché può aggravare i sintomi. Inoltre, le persone con malattie croniche o che assumono regolarmente farmaci dovrebbero consultare un medico prima di includere il peperoncino nella loro dieta. È importante ricordare che, nonostante i suoi benefici, il peperoncino non è un sostituto per una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. È un supplemento che può migliorare la salute, ma non deve essere l'unico strumento utilizzato per mantenere il benessere. In conclusione, il peperoncino è un ingrediente versatile con una gamma di benefici per la salute. Ricco di vitamina C, antiossidanti e proprietà antibatteriche, può rafforzare il sistema immunitario, migliorare la salute del cuore e aiutare con la perdita di peso. Ma come con qualsiasi alimento, il segreto è nel consumo moderato. Ricordatevi di godere del sapore piccante del peperoncino, ma anche di rispettare i limiti del vostro corpo. E, come sempre, consultate un professionista della salute prima di fare qualsiasi cambiamento significativo nella vostra dieta. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Teasily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Grazie per averci seguito in questo video informativo sul peperoncino. Arrivederci al prossimo video!